Lei è Elison Labrador Color Cioccolato di 5 anni. Elison è specializzata in ricerca in superficie macerie di persone vive. Abbiamo fatto la scuola Cinofili dei Vigili del Fuoco a Volpiano e siamo state certificate quasi 3 anni fa. Assieme alla sua conduttrice Francesca Pagliai sono l'unità cinofila dei Vigili del Fuoco di Arezzo. Diversamente dagli altri corpi, il cane è il nostro, è personale, perché tutto ciò che si basa sulla fiducia, il nostro addestramento, sul gioco e lei fa di tutto per cercare una persona viva al fine di venire a giocare con me. Quindi è un rapporto strettissimo. Elison ormai da qualche anno fa così parte della grande famiglia dei Vigili del Fuoco. All'interno della caserma a retina ha infatti già una casetta tutta sua. Perché parte del dispositivo di soccorso è parte di noi, è parte integrante del sistema di soccorso. Le unità cinofile sono un altro strumento di qualificazione dell'attività di soccorso dei Vigili del Fuoco e sono uno strumento fondamentale perché è unico e insostituibile. Questo comporta che devono essere parte di noi, integrarsi con noi e far parte di tutto il sistema. Quindi la casa è un segno, è un segno per dare questa ulteriore conferma. Di esperienza sul campo Francesca ed Elison ne hanno già fatta molta. La coppia ha infatti operato in tanti fronti critici da Amatrice al crollo del Ponte Morandi di Genova. Un'esperienza particolare, impegnativa, perché non siamo abituati a vedere una situazione del genere. Non era un terremoto, era un crollo di dimensioni enormi, però lei era tranquilla e sicuramente la sua tranquillità l'ha trasmessa anche a me. Un lavoro dunque straordinario, quello portato avanti da Francesca ed Elison nel soccorso alle persone in caso di calamità, che da adesso potrà contare su uno strumento in più grazie ad una donazione. Alla caserma dei Vigili del Fuoco è infatti arrivato un gollare GPS. Il GPS viene utilizzato per la ricerca in superficie, quindi avrò io uno strumento che mi dirà la mia traccia, cioè dove sono stata, e al contempo anche dove è stato il cane. Il corpo dei Vigili del Fuoco nutre ovunque di una grande simpatia, ma questo non è perché non se lo meritano. Evidentemente sono uno di quei corpi che sul campo dimostrano sempre di buttare sempre il cuore oltre l'ostacolo. Non è solo un discorso di simpatia, ma sappiamo con questo nostro aiuto che avremmo potuto fare qualcosa di concreto con le persone giuste, quindi non ci sono stati dubbi nel farlo.